Italian Wonder Ways, ovvero 5 cammini italiani per 5 continenti, un progetto che viene inaugurato nell'anno in cui ricora il giubileo straordinario indetto da Papa Francesco, la via francigena, quella amerina e quella di San Francesco, oltre al cammino di San Benedetto e a quello francescano della marca. Una serie di percorsi che si snodano nel centro Italia, creando così un prodotto turistico in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di viaggiatore, è un grande respiro internazionale, perché la vocazione italiana, nella sua ricchezza dei vari territori e dei vari cammini, è l'unica e la vera immagine che possiamo portare nel mondo. A ideare il progetto, il consorzio Francesco Sways, da anni impegnato nella promozione e nella commercializzazione dei cammini. A livello internazionale vogliamo far conoscere questo nuovo prodotto turistico che è dei cammini, che non è soltanto un prodotto di pellegrinaggio, ma a tutti gli effetti è un prodotto italiano, perché si parla chiaramente di percorsi che possono essere fatti a piedi, in bicicletta, ma anche a cavallo, e chiaramente poi valorizzano anche tutto il patrimonio culturale, enogastronomico, ma anche ambientale, delle nostre meravigliose regioni. Italian Wonder Waste nasce grazie ad un accordo di collaborazione tra Marche, Toscana, Umbria e Lazio. Abbiamo lavorato anche come regione molto, soprattutto sull'accesso nord, sulla francigena, in previsione del giubileo che è in corso. Abbiamo avuto oltre 20.000 persone che l'hanno attraversata finora. Il nuovo progetto coinvolge oltre 25 comuni, tutte le province e le straordinarie bellezze della regione Lazio, anche oltre ovviamente la città di Roma. Penso all'Abbazia, a Casamari, a Fossanova, città straordinarie, Greccio. Insomma, adesso non la voglio fare troppo lunga, ma in realtà il nostro tema è anche come valorizzare, dal punto di vista di un turismo consapevole, lento, ambientalmente orientato, valorizzare luoghi diversi dalla grande città e credo che questo progetto ce lo possa consentire. Le regioni del centro Italia hanno deciso di mettersi insieme, non solo in relazione a questo progetto, ma a una serie di progetti d'eccellenza con cui tenteranno di traguardare l'Italia centrale nel mondo, in alcuni paesi europei ed extraeuropei in particolare, riscoprendo il valore del marchio e della marca Italia, ma dentro un contesto che sa valorizzare quei percorsi di eccellenza definiti a suo tempo minori, ma che noi dobbiamo riscoprire se vogliamo assolutamente aumentare le potenzialità dell'economia turistica del nostro paese. Secondo il ministro Franceschini, un progetto che porta occasioni di sviluppo e di lavoro. È un grande progetto che si inserisce in quello che stiamo cercando di fare, cioè valorizzare la bellezza italiana non soltanto nei luoghi più conosciuti nel mondo, ma nei luoghi cosiddetti minori, ma invece che sono di una bellezza straordinaria per patrimonio culturale, per paesaggio, per storia. I cammini esattamente uniscono questi luoghi italiani e farli scoprire com'è questa iniziativa, l'Italia Wonder Ways, da giornalista, da blogger di tutto il mondo, davvero sarà un modo di valorizzare l'Italia che ha grandi possibilità di crescere e di farci conoscere nel mondo. È una terra di grandi tradizioni e spiritualità, non solo di concentrazione di santo.